Allora, Giuseppe, io te lo spiego, no? Stai tranquilli. Allora, fate chiesto che se noi aspettavamo a mandare i soldi in là... Statta zitta! Statta zitta! Giuseppe... Io sapevo... Io sapevo che non me la farà! La Geritta, prima o poi nessuno qua mi fa qualche stronzata! Ma che stronzata Giuseppe? Guarda quelli in botti... Giuseppe! Statta zitta! C'è la marona, l'ho fatta pure una strunza! Aglio, ma quanto è scemo? Quanto è scemo? 750.000 euro accanto a Svizzera! A nuovi soldi come se fossero nocciolini! Ma che ci dico la panzalata? Quanto è stronzata! Quanto è stronzata! Beh, ma come te lo devo dire? È stata una questione di te! Ah, sì! Ma io le faccio sempre ricche che mi ha tenere due conti separati! Perché secondo te 750.000 euro da qua, nella Svizzera, non li nota nessuno! Proprio stupido! Proprio stupido è questo qua! Giuseppe! Mi dispiace! Ma non è mai stata fatta! Com'è? Com'è? Mi da sc scarf bro! E te una noggia?! Fai una stagata! Fai una stagata! Fai una stagata! Non so Io sono Peppe Scherr Tu scordi